Commodore 64 sta riprendendo la temperatura dei componenti Questo caricatore USB a un certo punto ha smesso di caricare il telefono Allora è un modello basso costo, qua abbiamo delle scritte in cinese C'è questo simbolo che ricorda il logo Samsung ma non è un Samsung È una roba basso costo, vediamo se riusciamo a recuperarlo Per verificare se il caricatore fornisce tensione utilizzo un USB standard maschio A Che è terminato dall'altra parte con dei filetti che mi sono comodi per riconoscere le tensioni L'USB standard utilizza il nero e il rosso per l'alimentazione, quindi VCC rosso, gene di nero E i due fili di dato che sono il bianco di meno e il verde di più Questo per lo standard 2.0 ma noi siamo interessati in questo momento solo a vedere se c'è la tensione di alimentazione fra il rosso e il nero Collegato il cavetto diamo tensione, rimane a zero Si vede allo spegnimento un piccolo sussulto ma il caricatore è effettivamente guasto Per confronto attacco un carichino USB sempre economico e fra VCC e GND misuro 5 volte 2 Una volta aperto il coperchio col seghetto, poi qua c'è una specie di colla, l'oggetto si presenta così Andando a estrarre il circuitino vediamo i due terminali che vanno attaccati a due spinotti della 220 E il circuitino che permette di creare la 5 volt Nel caricatore riconosciamo i due terminali della 220 Il condensatore elettrolitico che verrà sicuramente subito dopo il raddrizzamento Poi sotto questo gommino abbiamo un transistor Q1 che probabilmente sarà un MOSFET che switcha su questo trasformatorino in ferrite Che provvederà poi a fare il 5 volt con questo deodeo raddrizzatore e questa capacità di livellamento C'è anche una parte di componenti sotto nel piano saldature Come prima verifica vediamo se applicando la 230 volt alla spina Vediamo se sull'elettrolitico abbiamo la raddrizzata Ecco ho dato tensione ma come vediamo sull'elettrolitico c'è questa tensione di 2 volte e mezzo Che ci fa capire che c'è subito un problema proprio nella parte di ingresso, quindi sul raddrizzamento Come prima verifica guardiamo l'integrità del ponte raddrizzatore che è questo componente Vediamo che ha più e meno, quindi la parte di raddrizzamento da questo lato E le due alternate qui e qui Quindi mi metto in modalità diodo con il multimetro e vado a verificare l'integrità del ponte Quindi da qui a qui Ecco sento il bip del multimetro e ho 600 millivolt di soglia Ok, quindi questi due diodi sono buoni Adesso guardiamo gli altri due Quindi mi metto con il positivo sul meno e andiamo a vedere gli altri due Qui Buono e anche qui Quindi il ponte è integro Fra l'ingresso della 220 e il ponte raddrizzatore Noto che c'è questa resistenza R1 di basso valore ohmico Dovrebbe essere 10 ohm, infatti ho marrone, nero, oro, oro Andiamo a vedere il valore della resistenza Eh, questa resistenza sembra essere interrotta Perché effettivamente non dà continuità Rappresentando lo schematto quindi abbiamo la fase neutro della 220 Il ponte raddrizzatore che abbiamo controllato a essere buono Il condensatore che sembra essere buono Invece questa R1 sembra essere interrotta R1 dovrebbe essere di 10 ohm Questa è la resistenza R1 che ho tolto da 10 ohm, mezzo watt Non avendo una resistenza di questo valore e questa potenza Ne monto due da 22 ohm e potenza un quarto di watt Quindi in termini ohmici e di potenza sono assolutamente paragonabili Quindi questo parallelo è paragonabile a questa resistenza che ho tolto Ecco montate le due resistenze da 27 ohm in parallelo Al posto di quella da 10 ohm Facciamo la prova per vedere se semplicemente con questa sostituzione Il caricatore riprende vita Ecco, forniamo la 220 con i coccodrilli Ecco, perfetto L'uscita dell'USB stavolta è 5 volte 2 Quindi banalmente era una resistenza interrotta Per questo tipo di caricatori economici Mi sarei aspettato un guasto piuttosto o al MOSFET O al ponte di diodi O eventualmente qualche semiconduttore O anche forse il trasformatorino di flyback Invece in questo caso era la resistenza appunto in serie Al ponte Ora, questa resistenza qua molto probabilmente è stata messa Per limitare la corrente di inrush sul ponte Che è un ponte molto piccolino perché è questo circuitino qui Infatti il condensatore alla prima accensione da 4.7 microfarad Richiama sicuramente una buona corrente E questa serve a limitarla almeno in fase iniziale Essendo poi di basso valore ohmico La corrente assorbita sicuramente non sarà tanta Per cui poi alla fine questa scalda Però poi nel nostro caso si è interrotta Questa è la resistenza coestratto In effetti si notano qua due segni Ecco si vede che è venuta via la parte esterna Quindi forse come progetto è un po' al limite Magari si potrebbe aumentare appunto la potenza Con una resistenza che tenga un pochino meglio Io ne ho messe due in parallelo E comunque il problema è stato risolto Questo circuito regolatore La parte sotto vediamo che c'è del montaggio Ecco noto che i pin Li hanno lasciati lunghi Quindi si potrebbe fare una rasatura di pin Perché poi cosa succede? Se questi vengono a toccare Malauguratamente si hanno di nuovo da capo Quindi prima di rimontarlo Li porto tutti a raso Ecco ho reinserito il circuito nel suo contenitore Adesso per chiudere sarà sufficiente mettere un pochino di colla E chiudere nuovamente il tappo Un'ultima osservazione su questi convertitori In questo caso almeno è isolato Cioè abbiamo visto un trasformatore che ci separa dalla 220 volt Esistono altri modelli di caricatori usb invece che non lo sono assolutamente E possono essere molto pericolosi Ad esempio questo modello Molto compatto Comprato per poco più di un euro Sicuramente non ha il trasformatore di isolamento E quindi significa che La 5 volt che viene ricavata qua Rispetto alla rete Non è isolata Quindi per un guasto di questo oggetto Potremmo entrare a contatto con la 220 Quindi una tensione pericolosa O addirittura danneggiare anche il dispositivo collegato all'USB Quindi il consiglio che vi do è Quando comprate questi caricatori economici Verificate sempre che siano almeno isolati dalla rete elettrica Poi essendo economici Può succedere che si rompano Abbiamo visto il circuito è molto semplice Quindi Basta un guasto anche minimo Una resistenza a un semiconduttore Che questi non funzionano più